Buongiorno, buon pomeriggio, buono tutto. Oggi mi sembra il momento di chiacchierare un po' su via Rasella, però vorrei, vorrei un preambolo prima, tanto per introdurre l'atmosfera. L'offesa più grande, più pungente, più offensiva, definitiva, che hanno gli spagnoli è sin vergüenza, senza vergogna. Non c'è offesa più umiliante per chi la riceve. Eres un sin vergüenza, per qualsiasi cosa si usa. Si usava soprattutto per i mascazzoni. Un mascazzone, quello che inganna una ragazza, per esempio, quello che inganna un amico, quello che inganna la verità, che inganna se stesso, quello è un sin vergüenza. Questo era solo per introdurre l'argomento. Ora poi c'è un'altra cosa che vorrei dire. Riguarda più direttamente l'attentato di via Rasella, ma è una considerazione questa. L'attentato di via Rasella viene effettuato da un gruppo di partigiani comunisti. Sono 17 ragazzi divisi in GAP, gruppi armati partigiani. Un GAP è composto da tre, quattro elementi, non di più. Non immaginatevi un'armata, ecco. Questi 17 ragazzi, ragazzi perché? Perché tutti i giovani, ventenni, venticinque anni, ce n'era uno di 27 addirittura. Tutti i giovani sono cresciuti durante il fascismo. Hanno frequentato le scuole fasciste. E ne sono usciti tutti i comunisti. Ora chiedetevi, chiedetevi, quale è la forma pedagogica, ideologica della scuola fascista. Tanto per capire con chi abbiamo a che fare. Incapaci addirittura di educare i propri figli. Ma come diceva Pasolini, i fascisti sono stati una banda di criminali che però non ce l'ha fatta totalizzare l'Italia. Non ce l'ha fatta. Hanno fallito. Perché criminali? Perché senza ideologia? Ora non importa. Ora consideriamo un altro fatto. Il fatto che i fascisti si definiscano anti-antifascisti. Cioè, cosa voglio dire? Che non hanno il coraggio di ammettere di essere dei fascisti con i quali non dobbiamo avercela per carità, non dobbiamo assolutamente avercela perché ognuno dovrebbe avere diritto a pensarla come la vuole. Ma si vergognano. Io sospetto perché abbiano vergogna a dire siamo fascisti. Forse per aver lasciato l'Italia dopo un ventennio in macerie da ricostruire. Da ricostruire non in senso morale, proprio anche in senso fisico. Fienili, stalle, strade, fogne, case, cazzo, tutto. Stazioni. Distrutta, rasa al suolo. L'Italia era rasa al suolo. Forse si vergognano per le leggi razziali del 38 a Trieste. Ma dico che qualcosa può essere. Un po' di vergogna dovrebbe darla, no? Quella delle leggi razziali. Di aver fatto scoprire agli ebrei che prima non sapevano neanche di essere ebrei. Avergli fatto scoprire di essere ebrei e averli privati dei diritti civili e anche umani. Forse si vergognano della risiera di San Saba i fascisti. Quel campo di concentramento a Trieste nel quale i nazisti chiudevano prigionieri politici, gli avversari politici. Gli ebrei andavano a San Saba ma poi erano deviati verso i campi di concentramento nazisti. A San Saba entravano e non uscivano comunisti, sloveni, antifascisti. Guarda a caso. Forse si vergognano di quello. Forse si vergognano anche del... Come si chiama? Forse si vergognano anche del neofascismo, della strage di Bologna. Dovrebbero avere un po' di vergogna, no? Cosa dite voi? E forse anche, forse anche, si vergognano della P2, dei colpi di Stato che andavano provando, degli appoggi che hanno dato anche in Argentina. Ma insomma, lasciamo stare. Parlato dell'educazione fascista, ora parliamo un momento di Via Rasella, in velocità. Quella che viene definita una banda musicale di pensionati era un battaglione delle SS. Aveva compiti di rastrellamento, e non occorre che adesso chiacchieriamo sui rastrellamenti a Roma, e di polizia militare. Dopo la strage, quello che rimaneva del battaglione, fu trasferito in Piemonte per combattere, per combattere i partigiani del CNL in Piemonte. A me viene da ridere a pensare che una banda musicale sia stata mandata a combattere i partigiani, forse per quello che hanno perso la guerra. Quello che mi dispiace è che il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, sia un fascista e che non abbia i coglioni per ammetterlo. Ciao ragazzi, ciao!